Corigliano Rossano con una popolazione di circa 80.000 abitanti si trova di fronte ad una importante sfida ed opportunità creare una sola squadra di calcio che rappresenti entrambe le comunità e possa ambire a campionati professionistici l'idea di una fusione tra le diverse realtà calcistiche locali attualmente divise è oggetto di dibattito potrebbe rappresentare un punto di svolta per il futuro sportivo della città ma anche per il suo sviluppo economico Colgo l'occasione per invitare Flavio Stasi ad occuparsi un po' di calcio perché una città da 90.000 abitanti assolutamente deve fare la Serie C per fare la Serie C bisogna che l'amministrazione convochi un po' di imprenditori ci sono tantissimi che lavorano col comune e quindi potrebbero costituire un grosso gruppo societario e sviluppare anche perché credo che una società forte e una squadra forte che vada magari in Serie C possa anche agevolare il discorso della nuova provincia che credo che sia un discorso assolutamente da inseguire Alcuni settori della tifoseria mostrano scetticismo legati alle tradizioni e alle bandiere storiche delle rispettive squadre Tuttavia altri gruppi vedono in questa proposta una possibilità concreta per rilanciare il calcio locale e puntare verso traguardi importanti come la partecipazione ai professionisti Con una città di queste dimensioni l'unione delle forze potrebbe consentire di superare gli ostacoli economici e strutturali che finora hanno frenato il salto verso il professionismo Il calcio non è solo sport ma può rappresentare un'opportunità di sviluppo sociale ed economico Coinvolgere imprenditori ed amministratori locali in questo progetto sarebbe fondamentale per creare una società solida capace di affrontare le sfide e portare la città ai livelli che merita La fusione delle squadre potrebbe aprire la strada ad una nuova stagione in cui il calcio diventa un volano per la crescita collettiva ed un simbolo di unità per Corigliano Rossano